Italian Scientific Awards 2022, siamo qui con Fabio De Cillis che è venuto a ritirare il premio speciale come Best Broker Online di IG. Quali sono le caratteristiche che vi hanno permesso di vincere questo importante riconoscimento? Devo dire che le caratteristiche che ci hanno permesso di vincerlo sono un po' nel DNA del nostro gruppo. Noi siamo presenti sul mercato del trading online da quasi 50 anni, quindi quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è mettere a frutto l'esperienza di specialisti del trading anche nell'industria dei certificati. E penso che questo riconoscimento sia il giusto frutto del lavoro e dell'impegno che tutta la squadra e tutto il gruppo ci mette da oramai quasi 50 anni. E i vantaggi e punti di forza della vostra piattaforma, ormai molto famosa e conosciuta in tutta Italia e non solo? La piattaforma è una piattaforma che è completamente rivoluzionaria per quello che riguarda il mondo dei certificati. Come dicevo abbiamo messo a frutto l'esperienza del trading online su prodotti anche speculativi e l'abbiamo riproposta in chiave più adatta per quello che riguarda i certificati. Quindi il trader che vuole utilizzare i certificati sulla nostra piattaforma trova un ambiente molto familiare che gli consente di utilizzare questi prodotti anche nel day to day, anche per un'operatività molto di breve. E guardando avanti, guardando oltre, quindi al 2023 oltre, avete qualche novità in cantiere da presentarci e da rivelarci in anteprima? Sì, abbiamo diverse novità in cantiere. Per quello che riguarda quest'anno la novità più importante sarà quello di un allargamento della gamma dei prodotti e diverse novità anche in piattaforma per quello che riguarda diverse funzionalità che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di trading dei nostri trader. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie.